Ciao a tutti ragazzi bentornati in un mio nuovo video Oggi finalmente esploreremo la casa Come abbiamo già visto, cioè come avete già visto, nello scorso video Era tutto bruciato E c'erano tutte queste cose Però io ho trovato un altro villaggio E mi sto prendendo queste cose Mi sto prendendo queste cose Ho trovato un altro villaggio Ah, è vero Va bene ragazzi Oh, guarda, quante Ma che bella casa Wow Che bella Che bella Quasi quasi c'è pure io Ho fatto proprio un infarto Ok Beh Credo di aver scoperto che il villaggio era sempre il mio Già Che brutto film che ho fatto Comunque Sistemiamo bene Così vedete Ora Noi abbiamo tutto pieno qua Qua tengo tutte le cose preziose Vedete Questi sono Come si chiamano I cosi che ti danno Non mi ricordo I tucci di qui così là Dell'acqua Ti danno tutte queste cose Pure quella Canna da pesca Peschi Qua tengo tutte le mie cose preziose Adesso ci metteremo anche qua Dai è pieno Che cavolo Non d'arceste È piena Ci mettiamo questa dentro Questa La TNT Ce la mettiamo dentro Ci mettiamo questo Tutto dentro Le torce No Metti tutto Metti tutto Metti tutto Metti tutto Metti tutto Però la mappa Per tornare a casa Dovrebbe essere Questa e questa Ok lasciamo Non so se voi C'eravate in quel video O forse non l'ho fatto Il video Perché io avevo trovato Di diamanti Credo che non avevo Fatto il video Avevo trovato una miniera Ti ho Però mi servono torce Se non sbaglio C'erano Le torce Vabbè andiamo Andiamo a vedere Io spero che il mondo Non sia infestato Da Aerobrine Per Ah ce la sa portare Mamma Si era aperta E chiusa da sola La Ah guardate Io ho recuperato Anche un pappagallino Ok andiamo A quella casa La corriamo Ragazzi So che vedete Malissimo Proprio Stop Eh proprio La fotocamera Cioè Ora Fra qualche giorno Vedrete meglio Ve lo assicuro Fra qualche giorno Ma sono torce Ah no Ma queste cose Mi sembravano torce Di rest Questi fiori Questi fiori Non c'erano Ho sbaglio Non c'erano Vabbè si La tomba Di cerchetto Valerito Che non so Neanche Ma Cos Vabbè Ma Io andrò a vedere I prossimi video Belli fuori L'artificio Vado A vedere I prossimi video Perché non mi ricordo Che questa Rottaglia c'era E non c'era Neanche questa Balestra La riga Mi sta spaventando Di brutto Vediamo Dove ci porta Dopo Verremo A esplorare Anche Quella Parte Là Vedete Stiamo andando In deserto Spero di non Perdermi Perché se mi Perdo Poi casa Come la trovo Sì C'ho la mafia Ok Ma Quello è un gatto Seduto No Questo è un villaggio Arriviamo a un villaggio Con un cavallo Che bello il cavallo Il cavallo Mi voglio prendere Aia Porco Due Voglio prendere Il cavallo L'ho preso L'ho preso No L'ho preso Sì L'ho preso Che bello Aia Vediamo Questo villaggio Oh Un'altra Wow Quante cose Andiamo Andiamo Proseguiamo Con il cavallo Il cavallo Il cavallo Ho bisogno Questo è bellissimo Questo è bellissimo No Guardate com'è grande No 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 Non Mi ha preso Danno Ehi, una caverna. Ah, a morirci. Vai. Che figlio. Oh, un altro cavallo. Ehi. Che bella. Che bella bellissima. Scrivetemelo giù nei commenti. Se volete altri video. Cioè, volete un video in cui... Resto qua per tutta una notte. Perché io questo villaggio non l'ho mai trovato. E io, di solito, respawno lì. Vedete? Quando... La prima volta che sono spawnato, ero spawnato là. Vedete? E tutto questo, raga, non c'era, lo giuro. E se non c'era, vuol dire che qualcuno sta. Quindi? Ma? Cosa cavolo? Quindi, scrivetelo giù nei commenti, se per una notte volete che restiamo qua. Perché in una notte qua può succedere di tutto. Quindi? Adesso torniamo a casa e vediamo se ci sono altre rotaglie. Nel prossimo video resteremo qui tutta la notte. Adesso torniamo a casa. Anzi, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro mio video. Fox, vi infranno i negosoggetti. Ciao e alla prossima.